Per rivedere il canale Albani come prima della devastante siccità, fonte di tutti i mali di questo corso d'acqua che attraversa la città di Fano, dovremo aspettare la fine del mese, momento in cui Enel Green Power, proprietaria della struttura, aprirà le chiuse per ripristinare la funzionalità della centrale elettrica a valle. Ma alcuni telespettatori ieri ci hanno mandato alcune foto di un canale Albani con il livello dell'acqua quasi nella norma, tant'è che anche alcuni suoi abituali frequentatori, come le Nutrie, si erano fatti rivedere. Ma le chiuse sono rimaste tali di nome e di fatto, ed allora che cosa è successo? L'abbiamo chiesto all'assessore all'ambiente, Samuele Mascarin. Ci sono stati in queste ultime settimane dei fenomeni di aumento dell'acqua all'interno del canale Albani, ma questo è legato alle precipitazioni che ovviamente hanno in alcuni giorni coinvolto direttamente l'asta del canale e nei giorni successivi il flusso vitale dalla chiusa che separa il canale Albani dal fiume Metauro ha avuto alcuni piccoli passaggi legati semplicemente al fatto che le piogge dell'entroterra hanno innalzato il livello del Metauro e quindi hanno reso il flusso vitale che formalmente è sempre stato mantenuto più importante, ma complessivamente di fatto le chiuse dal periodo estivo non sono più state riaperte. Senza perdere tempo, la scorsa settimana abbiamo comunque come amministrazione comunale, io e il sindaco Massimo Seri, incontrato i vertici nazionali di Enel Green Power per provare a definire una serie di interventi programmati che ci permettano nei prossimi mesi, senza aspettare la prossima stagione estiva, di poter organizzare tutte quelle attività funzionali a garantire il decoro, la pulizia, l'aspetto igienico e sanitario lungo tutta l'asta del canale e questo alla luce di un programma condiviso dove siano chiari anche i ruoli e le funzioni, senza rincorrere su, diciamo così, la scia dell'emergenza, quelli che sono stati i problemi, le criticità che in questa stagione eccezionale di siccità, non solo per Fano ma per tutto il territorio provinciale e nazionale, hanno segnato per il canale Albani.